Secondo i dati dell'ultimo rapporto INAP 2021, il Passaparola si attessa al primo posto in termini assoluti tra i canali di ricerca attiva del lavoro, soprattutto nell'età compresa tra i 18 e 32 anni. Open Job Metis ha deciso di sfruttare questa abitudine e progettare un'app gratuita destinata a rivoluzionare il mondo del lavoro, basata proprio sul Passaparola. L'idea ci è venuta perché gli ultimi dati anche rilevati dall'ISFOL dicono che il Passaparola è il metodo più utilizzato in Italia per cercare lavoro e allora non abbiamo fatto altro che unire un vecchio metodo per cercare lavoro come appunto il Passaparola e la tecnologia. Ci è venuto in mente di mettere a sistema tutti i nostri contatti, tutte le nostre conoscenze e da lì nasce l'idea di Johnny Job, un'app semplice, diciamo tanto semplice quanto innovativa, ma a volte nella tecnologia proprio le cose semplici sono quelle che funzionano di più, che ha il compito di elencare tutti i giorni le richieste da parte delle nostre aziende e clienti direttamente sull'app, tu scorri l'app, vedi che c'è una ricerca che potenzialmente potrebbe interessare a un tuo amico, segnali il tuo amico, il tuo conoscente, insomma la persona a cui vuoi bene e gli dici guarda che ti ho segnalato perché stanno cercando proprio una segretaria e tu mi avevi detto a cena l'altra sera che volevi cambiare lavoro. Da lì a quel punto finisce l'attività del segnalatore, il tutto viene veicolato attraverso le nostre 140 filiali sparsi sul territorio nazionale che iniziano una vera e propria fase di selezione, quindi l'app si occupa della ricerca del candidato e poi invece attraverso la professionalità delle nostre recruiter ci occupiamo della selezione. L'app Johnny Job è stata scaricata da circa 50.000 persone e devo dire che sono molto contento di questo successo perché non abbiamo fatto grandissimi investimenti in comunicazione, volevamo capirne il suo funzionamento, come il pubblico la recepiva e siamo molto contenti. Quindi da settembre partirà una nuova campagna, anche noi abbiamo preso spunto da alcuni correttivi che le nostre filiali ci hanno richiesto di fare, quindi ci sarà una versione di Johnny Job, versione 2.0, quindi pronti subito e immediatamente ad aggiornarla. L'app non è altro che lo specchio di quelle che sono le richieste da parte dei nostri clienti, inizia sempre di più a parlarsi in Italia, a parlare di green economy, si inizia a parlare sempre di più di quelli che potrebbero essere i lavori del futuro, il geometra di cantiere dovrà sapere anche di eolico, il manutentore delle caldaie dovrà manutenere una caldaia elettronica anziché una tradizionale, il fotovoltaico cerca competenze specifiche e particolari, quindi per riassumere, l'app è lo specchio di quello che sono le nostre ricerche, all'interno possiamo trovarci di tutto, da una semplice richiesta di magari una commessa per un negozio che ha bisogno di rinforzare il proprio organico, ad un ingegnere che magari si occuperà di tutta l'impiantistica di un grande parco fotovoltaico. Abbiamo commissionato una ricerca ad un istituto importante, autorevole come il Censys, abbiamo chiesto al Censys quali potrebbero essere i lavori del futuro, e il Censys ha rilevato come il mondo delle energie, il mondo delle rinnovabili, il mondo della transizione energetica, sicuramente sarà per i prossimi anni un interessante bacino di opportunità di lavoro, ma per fare questo bisognerà formare le persone che oggi non hanno ancora tutte le competenze necessarie e sufficienti per affrontare quelle tipologie nuove di lavoro. Ed ecco che il nostro suggerimento al Paese, sfruttando anche i fondi che dovranno arrivare, si parla molto di fondi legati alla formazione, è quello di iniziare oggi subito un piano importante di formazione per evitare di creare il disoccupato di domani. Il disoccupato di domani è colui che non si forma costantemente, soprattutto sulle nuove tecnologie.